Megan Denise Fox è nata a Oak Ridge, Tennessee, il 16 maggio 1986, ma già da piccola si trasferisce con la madre e la sorella Christie in Florida, dove ha studiato danza e recitazione. Inizia la carriera da modella fin da piccola e a 16 anni fa il suo esordio al fianco delle sorelle Olsen. Nel 2004 guadagna il primo ruolo al cinema in Quanto è difficile essere teenager con l'In Ceylon, per poi prendere parte alla sitcom Hope and Fate. Nel 2007 Michael Bay la sceglie per irrompere nella vita di Shia LaBeouf al fianco delle macchine aliene Transformers e la sua entrata in scena è già cult. Grazie a Transformers diventa una delle attrici più richieste al cinema e come testimonial di moda. La chiama Armani e campeggia sulle copertine delle riviste patinate. Intanto partecipa a Transformers 2, all'horror teen Jennifer's Body e a Star System se non ci sei non esisti. Le sue dichiarazioni su Michael Bay, che sul set sarebbe come Hitler, le inimicano gli studios, ma resta un personaggio amato dal pubblico. Nel 2004, durante le riprese di Hope and Fate, conosce Brian Austin Green, l'ex David di Beverly Hills, e da allora sono inseparabili. Si sposano nel 2010 e hanno due figli, Noah Shannon e Body Ransom. Ama molto gli animali e ha due capre, Lulu e Coco, oltre a un cane e un gatto. Dopo un'assenza di due anni, torna sul grande schermo come amica umana delle Tartarughe Ninja, nelle sale italiane dal 18 settembre.